A Radio Dimensione Suono oggi è effettivamente uno dei gruppi editoriali radiofonici più importanti in Italia. Ultimamente ha anche provato ad espandere ulteriormente il proprio raggio di azioni con delle nuove acquisizioni di quote societarie anche di altri gruppi. Il nostro obiettivo principale è allargare le nostre piattaforme cross mediali, poi essendo sul mercato molto attivi guardiamo a una possibile eventuale crescita del nostro gruppo in termini di reti. Quindi anche acquisizione o entrate in altri gruppi editoriali sempre di tipo radiofonico o anche altri settori? No, assolutamente. Sono il nostro settore che è un settore dove ci vede protagonisti anche grazie all'ottimo lavoro che hanno fatto i miei figli. Vediamo se c'è qualcosa all'orizzonte e cercheremo di cavalcarlo. Uno degli ultimi investimenti importanti del vostro gruppo è questo centro radiofonico effettivamente di grandi dimensioni e molto molto aggiornato. È stato un impegno comunque importante anche in termini economici? Sì, ma diciamo abbiamo investito in una struttura tecnologicamente avanzata con un auditorium all'interno che è stato premiato nel 2010 come la migliore innovazione tecnologica a livello mondiale. Ricordiamo anche il contributo che ha dato De Rosa in questo senso che mi sembra giusto? Sì, molto attivo, molto bravo con il nostro gruppo. Diciamo che siamo partiti un po' da lontano, facciamo investimenti sui contenuti, un po' sta avvirando la nostra attività sulla proprietà dei contenuti e in questo senso il nostro asset ci dà una grossa mano. Quando parla di cross mediale e di molti piattaforma che cosa intende per ciò che riguarda appunto Radio Dimensione Suono? No, la nostra attività ormai non è soltanto radiofonica ma il nostro gruppo è diventato una vera entertainment company, si confronta anche con altri gruppi internazionali, chiaramente sul nostro posizionamento preeminente che è la musica. Per cui all'interno del nostro centro multimediale realizziamo contenuti non soltanto musicali, avete visto anche qualche trasmissione televisiva come RDS Academy. Diciamo che quello che stiamo facendo è comunque creare dei contenuti che possano essere sfruttati su tutte le nostre piattaforme e mettere in condizione i nostri clienti di approfittare di questi contenuti. Parliamo di DAB invece che è il tema attuale a livello tecnologico, la vostra posizione? Il DAB finalmente dopo tanti anni di sperimentazione è un sistema tecnologico avanzato che sta funzionando, in altri paesi ormai sta diventando preeminente. Sarà un po' più difficile per l'Italia, suppongo, perché i famosi 50-60 milioni di abitanti sarà difficile, ognuno di noi in casa ha 7-8 ricevitori in FM, sarà un processo un po' più lungo. Ma quello che vediamo è che è un'ulteriore piattaforma della quale alcuni editori possono addirittura formulare proposte anche più innovative dal punto di vista dei contenuti. Ringraziamo Montefusco per RDS, per il momento per millecanali.it è tutto. Vorrei comunque ringraziare la vostra testata perché è anni che ci segue, è una testata viva e siamo felici di dare un contributo anche noi come editori. Grazie allora anche di questo riconoscimento, lo terremo presente per i nostri 40 anni. Arrivederci.